Ehm, ciao! Oggi siamo in un nuovissimo mondo di Minecraft insieme al Signor Buddy come sempre E oggi, Buddy, avremo la possibilità di riciclare o meglio, uncraftare gli oggetti Sì, ma io... Allora, ascolta, anche questo vuoi rovinare Non te l'avevo già distrutto questo, ok? Vuoi rovinare anche questo? Cioè, ogni volta mi impegno e lui arriva e mi distrugge tutto Allora, con questo crafting, che è quello che vedi qua, otteniamo un oggetto che ci sarà molto utile oggi Te ne faccio uno anche per te perché sono gentile, non per altro E praticamente, facendo così, abbiamo questo oggetto qua Che è un recycle, adesso vi farò vedere come funziona Ok Intanto vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale che è davvero importantissimo E ora vi faccio vedere come funziona Adesso, le balle di fieno ovviamente sono un po' inutili perché possiamo in realtà uncraftarle anche senza questo Però praticamente mettendo questa rotella qua e il blocco qui Ok, con questo non si può fare? Non si... Ok, si può fare recycle E così abbiamo uncraftato quella bellissima balla di fieno Possiamo uncraftare le carote? Le carote non credo, ma tra l'altro lo possiamo prendere con la mano, mi sa che serve un piccone Ah, ma me l'ha droppato! Ok, a posto Allora, allora, iniziamo subito Ovviamente è una spita in cui devi... Io ho già preso il legno Bravissimo, li prendi tu i letti Perché io voglio provare a fare una cosa Dentro le case è pieno di tappetini Ecco, qui ovviamente non c'è neanche un tappetino Oggi ti Perché mi picchi? Allora, intanto prendo qui tutto il bel cibo Dove sono i tappetini? Non ci sono tappetini nelle case? Cioè, di solito è pieno Oh, ne ho preso i due Ah, fuggi Allora, prendo anche un po' il cibo qui E poi devo farmi tutti gli attrezzi per uccidere il bellissimo golem Allora, è qui il golem Salve, buongiorno Venga qui con me Le insegno un bel segreto allora Sali, bravi Eh, mi vuoi prend... No, così mi prende Oh mio Dio Sono... Sono un po' stupidi Sto per morire da un golem Sto effettivamente per morire da un golem Oh, ciao Mi vuoi uccidere? Eh, invece non puoi Eh, invece non puoi E voilà Si sarebbe, scusami Eh, no Oh, ne ho trovato comunque cinque bel pezzettini Cinque bel pezzettini di ferro Allora, con questi cinque pezzettini di ferro In realtà possiamo farci tutto Perché non ci serve qui nient'altro Quella lì non credo si possa uncraftare Però proviamo nel dubbio Oh, prova Vieni qua nel mio recycle Ah, nel tuo Nel mio, esattamente Vai, ho messo anche... Eh, no, non funziona Mannaggia Mannaggia le campane Vabbè, me la porto via Mannaggia Allora, riprendiamoci questo cousu Allora, facciamo il bellissimo secchiel Riempiamolo di acqua Quanti dati hai preso? Gli hai raccolti tutti? Quelli nel villaggio? Eh, sì In realtà no Qua ce ne sono ancora Guarda, ma prendo altri Ok, ma scusa Vedo male o quello è un signor fabbro? Vedono male i miei occhiettini? Potrebbe essere un signor fabbro Allora, vediamo che cosa c'è Allora, buongiorno Le fornaci ve le rubo Che potrebbero servirsi Qua c'è della lava anche per dopo E... Ok Armature in ferro Però io farei una cosa Cioè, dato che ci siamo Bravo, ricicla Mi piace Bisogna riciclare Ah, ecco quei miei quattro pezzettini di ferro Perfetto Il Granson si può riciclare Cosa serve questo? Aspetta, vediamo Cosa fa Cosa succede Wow, recycle Inutile, vabbè Intanto lo prendo Cos'è che dà, scusami? Eh, questo Questo E non mi ricordo No, guarda, te lo regalo No, guarda, non mi sembra Nico, non l'hai preso? Non hai preso il tuo coso? Oh Ora ce l'ho Allora, qui c'è una bellissima piana aura Nella piana aura Vai che c'è la lava C'è la piazza di lava Di solito Qua c'è dell'acqua Vabbè, di solito Non sempre Qua per esempio In che piole non ne vai in giro Quando giri Nella piole padana Non sai che ti vede pieno di lava Oh, c'è un portale Di wait Come c'è un portale? C'è un portale Di quelli che spawnano Eh, che aso Magari c'è qualcosa Nella cesta di carino Nico, le armature d'oro Le armature d'oro Possiamo riciclarle Le armature d'oro sono un sacco Questo cos'è? Un alveare È completamente inutile Oh, aspetta un secondino C'è pure della Bella È un po' poca Se sbagliamo È la fine Però noi non sbaglieremo Facciamo che non lo Lo fai tu No, ok, c'è anche qua Della lava Non ti preoccupare Poi vediamo che cosa c'è qui È Armature in oro Con mending Sai cosa vuol dire? Che riciclandola Ci dà Io riciclo le carote adesso Buddy, guarda Ci dà anche mending Ci dà anche il libro Poi ci dà il libro di mending Ma veramente Mi dà il libro Vabbè, ricicla Grazie mille Grazie davvero Allora Mi faccio al volissimo Il picconcino in ferro Per prendere quel blocchettino d'oro Lassopra Perché comunque Non ci fa schifo E poi andiamo a fare subito Il portale nell'altra pozza Tu intanto hai preso la gravel Sì No, in realtà c'era proprio Un flint and steel Già pronto qua dentro Ah, ok, a posto Quindi scendiamo E ci siamo Mi riprendo questa Perfetto Andiamo a fare il nostro bellissimo portal Con calma Facciamo la nostra bellissima cosina Così Ok, con legno Che in realtà prende anche fuoco Perfetto Allora Guarda, guarda che bravo che sono Devo fare così E poi così No, 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 no No, indietro Qua, qua, qua No, no, no Qua, 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 qua Così Eh vabbè dai C'ero quasi Ho sbagliato di uno Stavolta Dai, per favore Sì, potevi buttare tutta la lava Ecco Vabbè, ti ho salvato la vita almeno, no? Eh, grazie Wow Vabbè dai Facciamolo di qua Non ti preoccupare Tutto sotto controllo E allora Secondo tentativo Nella bozza qua sotto Sperando che basti Perché altrimenti siamo fregati Allora Perfetto Facciamo quindi così Poi così E così Giusto? No, 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 no Perché no? Eh vabbè è uguale dai No, no, no Fatto, vedi? Ancora forse recuperabile Ancora forse Forse recuperabile Forse Mi serve un ultimo pezzettino di lava Un ultimo pezzettino di lava Ti prego dimmi che No, devo tornare davvero Devo tornare No, vanti Devo tornare al villaggio La lava del villaggio Ce l'abbiamo Bene L'ultimo blocco Va qui Perché c'è una campana Che suona Va bene Finalmente ce l'hai fatta Va bene Dai Accenda sto portale Possibilmente Ma che cosa vuoi che accendo? Il portale Dai, dai Vada 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 Ci regali queste Non si sta Sì Non ti preoccupare Può capitare Eh come no Guarda Siamo Fortezza Guarda È pieno di fortezze Allora Io direi di Uncraftare il mio secchiello E magari faccio 60 minuti Pezzo di armatura Che ansia marci che appare ogni tanto Allora Incraftiamo questo bel cosetto Posso farlo? Devo svuotarlo dall'acqua Va bene Facciamo così Almeno posso farmi un pezzettino Di armatura Perché ho 8 pezzettini Mi faccio un corpetto Almeno mi proteggo Tu bad invece Non avrai niente C'è qualcosa di Mamma mia Sono caduto nella lava Sono caduto nella lava Ok C'è qualcosa di Sei simpatica C'è qualcosa di interessante Da queste parti Buongiorno Uuuuh C'è una fortezza Però sto morendo di fuoco Morirò Secondo te Ok non sono morto Perfetto Ah Vabbè siamo già a quota 24 fail Ehm Va bene comunque Cerchiamoci sti blades Dai Almeno facciamo le cose fatte per bene Le blades in realtà Sono un po' inutili Perché non possiamo Uncraftare Non possiamo farci nulla Però volendo Possiamo riciclare Gli occhi del land Se dovessero avanzarci Ok Lì ce lo spawner Andiamo andiamo Vuoi fare la doccia? Non mi sembra un buon coso Per fare la doccia Prova a saltarci sotto Prova a saltare Vedi se è vera Ah Ah ha preso fuoco Ha preso fuoco Oh mio dio Ho mezzo cuore Andiamo a sto spawner Dove cavolo era? Era qua Qua a sinistra Lì Eccolo Andiamo 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 Sarebbe Sarebbe molto divertente Sono morto Se me lo droppassero Ok Prima blaze lo dalla prima Oh mamma Sto per morire anche io Sto per morire anche io Ritirata 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 Ok E copriamo vita Ok Ok ci sono Bravo Per la tua prima kill Dei mostri Sto mortissimo Sto morto Guardate Fuggi 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 Sono morto Cosa sta succedendo Ma cosa sta succedendo Tipo un 2-3 stella Vai prima tu poi vado io Ok Vai torna 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 Ancora è poca vita Devi fare la staffetta Ok Vai 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 Cambio cambio Però io non ho rigenerato Ho spesso da usare i blocchi No Troppo da pro player quelle cose Ho sei blade rod Quanto ne hai tu Io ne ho preso un'altra Ne ho due nico Ne hai due Ok 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 Siamo a posto Io ne ho tre Ne ho tre Sì che l'ho droppata Siamo a posto Andiamo Aspetta un attimo Cosa devi aspettare Bravo Ho sempre odiato Ok dicevamo Andiamo a cercare il bastione O comunque qualcosa Quanto ora abbiamo Io ho un blocco I 17 È poco È decisamente poco Dobbiamo cercare una fortezza Bastione Dobbiamo trovare il bastione Qua c'è della lava bugata Ma cos'ha sto nether Scusami così per capire Non lo so Ma se facessi così No ecco Ha fatto un casino Vedi che la ragazzaccia Qui si Wow Wow Guarda che può parkourer Dico hai rischietto fin troppo eh In teoria in questo bioma Però non spawnano i bastioni Quindi dobbiamo allontanerci Andiamo a cercare qualcosa Altro Comunque siamo vicini al portale Quindi al limite possiamo fare Un Oh mio dio Un altro portale No Portale Ma scusa Hai detto che non spawnano i bastioni In questo bioma Io sapevo non spawnassero in questo bioma Ma infatti ma non do Vabbè non Non importa Ma è bello però Meglio ma non ti lamentare Non ti lamentare Guarda questo è un sito Bellissimo Me lo devo salvare Allora entriamo in questo caos Dove Entriamo ma si Entriamo da qua Ma che c'è in porta Cosa c'è nelle chest Buddy Che c'è qui Armature d'oro da uncraftare Molto bene Frecce nel caso dopo ci dovessero servire Un metodo d'oro da uncraftare E un piccone con siltac Vabbè Quel piccone sai cosa ci servirà Droppamelo pure Aspetta Guarda Droppamelo pure Non c'è oro Incredibile Non lo so Però guarda ti metto qui questa Fai pure quello che devi fare Allora mettiamo questo Ecco l'oro Vedi Metti tutto a uncraftare Bravo Buddy Fai la brava persona qui Allora auto recycle Perfetto Così fa tutto in automatico Comunque qui abbiamo Perché non Ma ti è inglobato Non mi hai rubato i diamanti No Non ho droppato i diamanti Il piccone Non è il momento Non è vero Mettilo subito a ricic Cos'è Questa non si può riciclare Mettici il piccone Oh Quanti diamanti Recycle Recycle Tutto mio Quest'oro intanto Lo si prende Perché non ci c'è mai Mi hai tolto l'unico piccone Che poteva servirmi Per prendere quest'oro Ah Tieni su Warcraft Allora andiamo a vedere Qua sotto Dobbiamo stare attento Ai magma cosi Perché sono fortissimi Spacchiamo subito Questo Il magasporio E dammi un attimo Dammi un attimo Ok fatto 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 Allora prendiamo qua Tutto l'oro C'è anche la quest Sì sì bello l'oro È proprio un bel blocco È bellissimo Anzi è incredibile Difendimi un secondo Ok grazie mille Guarda quanti achievement Che ho fatto Ok siamo messi molto bene Ho trovato una Mellow Fibaddy Adesso voglio provare Se me la fan craftare Voglio provarci Vieni dobbiamo radunare Tutti questi miei ragazzi Non ci dobbiamo rimanere qui un attimo Eh no dobbiamo scambiare con loro Ma poi sono Sono delle statue Non si muovono Ci sono ben 4-5 ragazzi alla festa Non so quanti di preciso Comunque prendetevi tutto questo oro Divertitevi Fate quello che volete No ma buttaglielo bene Che non lo prendono bene così Eh un attimo Che ho venuto Passa avanti Non c'è guarda come sono potenziosi Questi ragazzi Intanto io mi metto Oh ne è arrivato un altro intanto Da dove è arrivato Allora Ancraftiamo tutto ciò che c'è De ancraftare quindi Piedini con frost walker Piedini senza Oh mio dio Mi stanno uccidendo Chi mi ha colpito Chi mi sta colpendo Buddy Aiuto ci sono i fantasmi Vediamo se questa si può ancraftare Non si può ancraftare Vabbè Te la mangi Meglio di niente Meglio di niente Faccio così per divertimento Recycle Allora Che cosa ci hanno torpato I nostri amichetti qua Mi butto insieme a loro Mi butto insieme a loro Allora Ricordati di buttagli loro Certo certo Io lo ributto tutto Ok Però mi sembra che non ci sia un bel niente Ah Che bello Non ci sono Oh è un 11 ender Per il wait Me ne serve un altro però Ok aspettiamo qua Li osserverò nei Che casino Dove sono Aiuto Oh 15 Via Fuggi Fuggi Scava qua Aiutami ti prego Batti aiutami ti prego Aiutami Batti ti prego Chiudi di qua Ok perfetto Oh 16 C'erano altri sotto Vabbè Tanto ci bastano Allora In teoria Speriamo Sì dai ci basteranno Nuovo portale E usciamocene tipo Immediatamente Andiamo Ce ne nico Andiamo Ho fatto il portale Entra Vieni con No Vabbè anche tu usci in qualche modo Dai non ti preoccupare Vediamo dove siamo Siamo in un bel posto Siamo in una caverna Siamo in una caverna Quanto era scontato Ho sentito dei villager Siamo sotto il villaggio Non è il villaggio di prima questo Questo non è il villaggio di prima What Beh vabbè Ma quanta roba c'è qui dentro Vabbè Questo devo provare a incraftarlo Ah Stai facendo il villager No Sono dietro di te Sai che tutte queste belle armature Possiamo ribercele Per craftercele per noi Ma chi te le fai Dai ma questo è un altro fabbro Voglio provare Sono due fabbro Davvero E l'altro l'avevo preso io Tieni di gambari C'è il taccementing Ma addio ha perso la recycling Cosa Non ce l'ho più Ce l'ho io Ce l'ho io L'hanno raffinato Non è una vita Ce l'ho io dai Vieni qua Metti giù che vuoi provare a fare questo Vediamo se funziona Non funziona Vabbè Comunque c'è un altro villaggio Io mi prendo i letti Nel caso Non dovessero bastare Ma io ti ho già presi tutti i letti per te Nico Mannaggia a te Va bene Allora facciamo queste cose Andiamoli Posso craftare anche tutti Tanto possiamo uncraftarli Nel caso Vediamo da che parte sono le cose Di là Che da un bellissimo angolo Gero Possiamo andare di qua Non le posso riciclare Come non puoi riciclarle Non possono tornare a Enderpearl No Vabbè Eh vabbè Fa niente Allora andiamo sopra questa montagna Nico io me la sento Nico io me la sento Mi butto qua sotto Ma che te butti Io vado sopra la montagna Sono un po' scopidello comunque Vediamo se da sopra la montagna Cambia direzione Sono un pochettino disperato Guarda quella va di nuovo là Aspetta Ha un pochettino cambiato Vuol dire che ci stiamo avvicinando Vuol dire che non è più a chilometri 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 di distanza Chi lo sa Non lo scopriremo mai Non lo scopriremo tipo mai Qua c'è un'altra montagna Andiamo sull'altra montagna E vediamo se Boh cambia direzione Non lo so Sprechiamo anche un ender Per già che ci siamo Vai Ok vediamo di quanto cambia Perché almeno capiamo Quanto dista ancora Sono un po' stanco Di camminare sinceramente E' tornata indietro E' da quella parte E' tra la montagna E' tra due montagne Ok andiamo qui Nico Qua non c'è Trovato il 4-4 Vieni qua dai Proviamola qui Ma è tutto giusto 4-4-4 proprio Vieni qua Buttati giù insieme a me Veloce Mi vedi Sei sicuro Vieni qua Ma hai guardato i chunk Sì fidati di me Dai Vai andiamo Buttati Andiamo guarda Ti faccio vedere Nico ti stai fidando Ecco vedi Cosa ti avevo detto io Come fa Ma buddy Ma sei fortissimo Non me l'aspettavo No in realtà ho sparato a caso Come al solito Il primo 4-4 Che ho trovato Eh vabbè E' giusto Allora Dove diamine Al portale Oh mio dio E' pieno di creeper Attento E' pieno di creeper Nella libreria Non c'è un bel niente Nico ma è qua C'è un portale A fianco alla libreria Ok vediamo quanti occhi ha Prima togliamo sto cosa Che è pericoloso Ne ha una bellezza di due Ok buddy Tu mi le blitz Tu vero Però non me le hai date Sì c'erano tre Ok Me ne basta solo una Guarda non esageriamo Veloce che c'è un coso Che ti spinge nella lava Eh te ne bastava solo una Due lo buttate nella lava Ho capito ma non lo farei mai più Che ti giuro Ho perso metà della mia vita In soltanto un secondo Via Wow Gentilissima Grazie mille per la sua concessione Oh mio dio Stavo per morire Ok Ehm Devi prenderli quelle atti E devo aspettare che vada via Lo sputo Ha sputato sto ragazzo Manneggia lui Che è un maleducato Niente Devo aspettare per forza Che vada via lo sputo Allora Questo drago È particolare Perché abbiamo provato a girare Queste Abbiamo provato a spostarci di torre Abbiamo provato a salire Ma lui È innamorato di quella torre lì Gira solo e unicamente attorno A quella torre lì Ora io posso essere stupido E non capire qualcosa di minecraft Però non è possibile Mi sa che farò una cosa Un po' cittosa Farò scomparire questa torre Anzi Sapete cosa vi dico Facciamo Game Game mode creative Ditemi cheater Ditemi quello che volete Ma qua Questa torre Non c'è più Vediamo se ora scende Non lo so Boh mi sembri un pochettino Guarda che ora scende subito Guarda che se scendi subito Fai davvero schifo Niente raga Continua a girare Anche se la torre non c'è Oh mio dio Forza la volta buona Ha fatto un sacco di giri Ti prego Vieni al centro Ti prego Oh mio dio La volta buona Non ci credo Sinistra sinistra F3B Ok ci sono Ma perché c'è l'uovo Abbiamo provato a ucciderlo Per sbaggarlo Ma non ha funzionato Oh mio dio Cioè in realtà si ha funzionato Perché boom Perché boom Perché boom Mamma me li sto filando Mi sa Ma sta laggando il drago O sbaglio No l'hai preso Questo l'hai preso bene Nico comunque Voglio fare una cosa Cosa vuoi fare Prima di andarmene Ho riciclato una patata Va bene Comunque se c'era l'uovo raga È perché abbiamo provato A respawnare il drago Perché era stupido Infatti si è rigenerata anche la torre Però almeno si è sbuggato E finalmente Abbiamo vinto Minecraft Noi comunque ci vediamo domani Con un nuovissimo video Quell'enderman ci ha seguito Perché ci vuole tanto bene E in realtà odia buddy Vabbè Buon natale a tutti E felice anno nuovo